Buon pomeriggio a tutti ragazzi, per questo video parleremo di che cosa? Del 71 episodio di Angry Dragon, eh? Chissà che cosa accadrà in questo video, ok? Buona visione! Eccoci qui ragazzi Dobbiamo fare 600 ragazzi Per sbloccarci il nuovo Drago E non mi basta Va bene, andiamo Andiamo, forza Ok Vediamo Va bene Facciamo tutto questo capogiro, ok? Più di 35 volte devo attivare la furia incendiaria Qui sotto c'è lo screen Mi impegno I piragna che mi mordono Buon Ok, ora risaliamo Altre 35 volte la devo attivare Qua dobbiamo salire Qui c'è una lettera Ah, ma devo guardare anche in aria Visto quale lettera Ce ne sono due Lì dobbiamo salire molto in alto Molto Molto Ok Ok La R è da quella parte Andiamo R è presa E ora andiamo da questa parte Lo scrigno del tesoro È da questa parte Buono Ora dove sono Tutti Là Ok Quindi andiamo nella tana dei goblin Qui le missioni Altre 34 volte la devo attivare ragazzi La furia Qua ci sono i piragni Andiamoci Prima che ci mordicchiano E qui c'è il passaggio Nella rotta dei goblin Ok Aspettate un'altra pausa Ok Queste sono le miniere dei goblin Non dobbiamo confonderci Un'altra piccola pausa Grande pausa Ho un impegno Devo uscire Ok Ok Adesso muoto l'audio C'è uno scrigno Qui ragazzi Che qui me lo ricordo Visto Che c'è lo scrigno Eccoci qui ragazzi Devoriamo tutto Quello che incontriamo Grazie a tutti Sto registrando Sì Certo No volevo controllare Ops che bel guaio Ok basta ghiacchiere Cominciamo ad andarcene Vediamo ragazzi Cosa possiamo fare L'uovo è qua intanto No qua è Aspettate qui qui è E' scaduta la mappa Non so il motivo Forse si è bloccato Qualcosa Eh l'uovo l'abbiamo trovato Qua è Adesso Devo trovare lo scrigno Attenzione alle mine giganti Già una letta l'ho trovata Aspettate Non ti bloccare Per piacere Perché si è bloccato Ragazzi resta il fatto Che lì c'è una lettera E dobbiamo andare In quel posto Qua sopra Dobbiamo andare Ragazzi Forza Forza Per piacere Per piacere Per piacere Per piacere Per piacere Per piacere Vedo cosa posso fare Alcune missioni Forse non le posso completare Per piacere Zumbido Zumbido ma i piranha questi saltano attenzione miniera dei goblin divoriamo goblin nel più possibile ok c'è da questa parte visto 197 ne ho divorati 99 forse almeno con vedo questa missione 200 già sono 203 4 5 6 7 aspettate vediamo devo andare nella galleria la miniera e questa non è miniera la 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 miniera che torno torniamo intendo dire intanto guardiamoci questo qua gli scrigni tutti quanti li abbiamo aperti 534 eh ragazzi qui ragazzi ho la missione dei goblin completata ok 500 già sono arrivato eh in questo video dobbiamo sbloccare quel drago per forza perché le cose qui dovevano andare diversamente il maiale mangiado ok Stupidi marchi ingegni dei Goblin. Grazie per la visione! Dai, ne mancano altri due ragazzi! Non mi interessa, la cosa sarà lunga, ma io in questo video dobbiamo sbloccare quel nuovo Drago. Qua c'è molta ventilazione. Andiamo! Grazie! 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 Visto? Appena faccio quella missione già ragazzi qui dobbiamo smammare e finire qui. Attenzione! Grazie! 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 Vai! Non può essere! Forza! io devo completare quella missione a tutti i costi senza scuse a tutti posso spendere tutte le gemme che voglio ma io a tutti i costi devo completare quella missione dobbiamo completare perché sono con voi che voi mi guardate io gioco perfetto dai mi sicuro è 900 3.300 devo fare ragazzi mi sicuro Grazie a tutti Io ve l'ho detto Posso spendere quello che voglio Ma devo completare assolutamente Questa missione Un attimo Qua Devo trovarlo un tesoro Forza 88 Oh perfetto La prima occasione che moriamo Finiamo qui il video D'accordo Dura un po' di più Ma non me ne frega niente Megafuria incendiaria Diciassette Nando abbiamo completato due missioni E questo ci fa piacere Ok Ok Ecco siamo morti Eh? Quindi Cosa facciamo se siamo morti? Io ve l'avevo detto Mi interessa anche se il video è lungo Ma qua Abbiamo sbloccato il nuovo drago E ora vedremo come si chiama Qua Visto? L'abbiamo sbloccato Ora lo andiamo a vedere come si chiama Ragazzi Questo drago Ora lo andiamo a vedere Ora lo andremo a vedere Ecco qua Guardatelo Gold Eist Si chiama Eccolo qua Ragazzi Un nuovo drago Finalmente Ma lo utilizzeremo nel 72esimo episodio Ok? Beh ragazzi Spero che questo video Ovviamente di Angry Dragon Il 71esimo episodio Sblocchiamo Il drago Gold E Eist O Gold Eist Boh Quello che è Comunque Spero che il video sia piaciuto E se è dal canale mio Conditi un bel like Seguici Instagram E noi ci vediamo Nel prossimo video Che lo utilizzeremo Questo nuovo mastodontico Drago Serpente Ed è il mio colore Blu preferito Al prossimo video Ciao a tutti